Da 40 a 50 lavoratori della Azimut Benetti saranno trasferiti in tempi brevi da Viareggio a Livorno. È questo l'annuncio shock dato dal Colosso della Nautica alle rappresentanze sindacali durante un incontro martedì pomeriggio. La denuncia arriva da FIOM CGL di Lucca e provincia. Secondo l'azienda saranno spostati l'ufficio tecnico, l'ufficio amministrativo, commerciale e marketing. Resterà unicamente un presidio a supporto della produzione e il tutto avverrà in tempi brevi. Inoltre entro fine ottobre il Consiglio di amministrazione delibererà la divisione societaria tra Azimut e Benetti segnando la discontinuità dei marchi e delle produzioni con la definitiva assegnazione del ruolo centrale di Livorno per il marchio viareggino. Una prospettiva inaccettabile alla quale ci opporremo con tutte le nostre forze è il commento di FIOM CGL Luca Versilia indebolisce Viareggio relegata al luogo di produzione soltanto fin tanto che non verrà deciso diversamente. Inevitabili disagi per i lavoratori che lasceranno la darsena viareggina per quella livornese. Per respingere quella che viene definita una soluzione sbagliata che cancella il patrimonio storico e occupazionale di Viareggio è stato indetto da subito lo stato di agitazione e proclamato un pacchetto di ore di sciopero. Previsto per giovedì mattina un sit-in dei lavoratori fuori dalla sede dell'azienda. Grazie.